In occasione della selezione del Rally Italia Talent tenutasi sulla pista del Corallo di Agliero, e in attesa della prima prova del campionato regionale kart AC Sport in programma l'11 febbraio sul cartodromo San Lorenzo di Villanova Franca, abbiamo intervistato Antonio Dettori, referente karting AC Sport Sardegna. Abbiamo anticipato un pochino di un mese circa la stagione, abbiamo deciso di fare una gara in meno rispetto all'anno scorso, quindi regionale 5 più una di Coppa Sardegna a fine anno. Un pochino di modifiche regolamentari, nel senso che faremo le ultime due gare a coefficiente, quindi per tenere vivo il campionato ancora di più, tante piccole novità che poi potete trovare eventualmente sulla pagina Facebook, non sto qui ad annoiarvi, un nuovo organizzatore che succede alla 4Mori Karting per i prossimi, spero, 3-4 anni. Tante piccole novità che secondo me fanno bene al movimento. Abbiamo un po' allungato le date tra una e l'altra per cercare di permettere a tutti di recuperare un po' di forza economica che tra una gara e l'altra, se sono troppo vicine, fai fatica a farle tutti e due, quindi sembra che abbiamo fatto delle mosse giuste per continuare sulla strada che abbiamo intrapreso nel 2015. Voglio infatti per questo ringraziare AC Sport che in questi tre anni, sia AC Sport Roma, AC Sport Cagliari, Sassari che in questi tre anni hanno dimostrato di avere un occhio di riguardo per il movimento cartistico isolano e hanno permesso a noi che ci siamo impegnati di arrivare a questo risultato importante, quindi volevo ringraziare alla fine di questo mio triennio di organizzatore. Grazie ancora.